Buongiorno, i vecchi e i vecchi, i vecchi e i vecchi. Di dove? Cosa fai? Al Gorea. E viva Al Gorea, il pre-comunista. E siete tutti comunisti, lei è comunista? No, no, ma è stata... Peccato, peccato, come entrate? Un po' giù. Sono entrate a... Per concorso no. Non li fanno? Ah, perché è una precaria, lei per concorso. Precaria. Complimenti. Precaria. Quando vado in concorso? Nel 2008. Bravissimo, complimenti. Tutti per concorso. Lei è animalista? Lei è animalista? Lei è animalista. Lei è animalista? Lei è animalista. Lei è animalista. Lei è animalista. Io non sono in Rai, io sono una precaria. È una precaria e i Rai 3? Ah, è precaria. Pensi? Ma è una disgrazione. Se ne è occupato? Faccia causa, sì, certo. Ah! Faccia causa a Rai, tanto i Rai sono tutti entrati. Senta, facendo le cause. Buongiorno. Facendo tutti ingressi, com'è che gli animali sono entrati in campagna elettorale? Perché sono fondamentali per la vita della gente. Una volta ci si occupava anche di temi un po' più alti. Ma no, noi ci occupiamo di tutti i temi. È lei che non se ne è accorto.